Giulio Biagiotti, andrologo di Perugia. Quello che ho avuto modo di vedere stamattina è estremamente interessante perché ha decisamente ampliato quelli che sono i miei scarsi orizzonti chirurgici. Quello che mi è piaciuto molto è che si vede che la tecnica chirurgica è stata studiata nei minimi particolari che presenta le caratteristiche tali da poter evitare nella maggior parte dei casi qualsiasi tipo di errore e questo essendo una cosa personalizzata caso per caso, paziente per paziente è estremamente importante il mio parere.